Male il passaggio per Muriel, allontanato Perez, prova a ripartire Pacero, se ne va a spazio Pacero tra quattro, cerca il dribbling ancora Pacero, insiste l'appoggio per Pereira, non supera con la Cinaz, dall'altro lato arriva Ebo Sele che la tiene in campo, sceglie di giocarla, la tocca per Samartic che va a puntare Baccher, rientra a sinistro, giro, traversa! Pazzesca la giocata di Samartic che c'entra il secondo legno del pomeriggio per l'Udinese, Wallace da fuori, deviazione, palla in rete, l'Udinese la sbloccata al minuto 44